Buongiorno a tutti, come vi avevo pronunciato passiamo a questo video registrato per vedere i dettagli più organizzativi del corso, così abbiamo potuto sfruttare un pochino meglio il tempo interattivo per approfondire i contenuti. La parte organizzativa è composta di alcuni argomenti di tipo pratico, di tipo logistico e in particolare come sempre partiamo, il punto di arrivo, il punto di partenza è sempre il sito del corso, partendo da lì trovate comunque tutte le informazioni che vi servono. Quindi tutte le slide, tutti i testi di laboratori, gli esempi che facciamo in aula, le video lezioni, quindi tutte queste registrazioni le caricheremo sul portale, le caricheremo su YouTube, ma saranno sicuramente linkate anche da questa pagina. Quindi questa pagina è il punto di cui ci siamo già detti, è il punto di riferimento di tutto ciò che gravita intorno al corso. Ovviamente ufficialmente usiamo anche il portale della didaltica, il sito didaltica.polito.it, però proprio per essere anche un pochino indipendenti, anche un pochino più snelli, senza avere bisogno di fare login e cose varie, preferisco avere comunque un'organizzazione del materiale su questa pagina, diciamo così, molto più semplice. Così come c'è anche il calendario delle lezioni, nella sezione che qua si chiama il registro delle lezioni, qua la prima voce fa vedere proprio l'elenco delle lezioni via via che sono previste con l'argomento, con il materiale relativo a ciascuna di esse. Quindi questo è un pochino il nostro ruolino di marcia. Come dicevo, questo è il calendario previsto, ovviamente è leggibile, sono tutte le lezioni che sono previste per questo corso, speriamo che non ci siano degli intoppi o degli imprevisti. Ovviamente per la maggior parte per ora c'è solamente l'ora e l'aula, ma è anche il docente, ma via via si riempirà anche appunto di link ai materiali, link alle video lezioni e cose di questo genere. In totale ovviamente questo è un corso da 8 crediti, quindi diciamo così, peserà un totale di 80 ore di lezione. Queste 80 ore sono divise, zoomiamo un pochino meglio per riuscire a leggere, sono divise in circa 40 ore di programmazione, quindi con tutto ciò che abbiamo visto, significato che abbiamo visto, circa metà del corso sarà dedicato a teoria, spiegazioni, esercizi fatti insieme, esercizi proposti sulla programmazione e ovviamente l'apprendimento del linguaggio. Una decina di ore scarsa sarà sugli argomenti più di teoria, quindi sulla codifica dei numeri, il funzionamento degli laboratori, eccetera. E altre 30 ore, sono 18 di laboratorio e 12 di esercitazione, saranno risoluzione e svolgimento di problemi. Affrontiamo i problemi e cerchiamo di risolverli, applicando un po' il metodo che ho cercato di raccontarvi nella lezione precedente. Il laboratorio in particolare saranno appunto 18 ore totali, quindi sono 12 laboratori di un'ora e mezza ciascuna, moltiplicati per tre squadre, adesso questa moltiplicazione per tre squadre vediamo un pochino più in dettaglio come funziona e che cosa consiste. Come abbiamo già condiviso sui vari social e sul sito del corso, il libro del testo è questo di Osman e Neckes. Ne esiste una versione italiana, seconda edizione, che corrisponde alla versione americana, inglese, terza edizione, come indicato qua. Quindi se vi trovate meglio con l'italiano va benissimo questa, se vi trovate meglio con l'inglese va benissimo l'altro. Ovviamente è lo stesso libro tradotto, qualcuno si chiedeva se devo prenderli entrambi, no, certamente che no, uno solo dei due è più che sufficiente. Qui ci sono i riferimenti, che avevamo già anche trovato sul sito, i riferimenti più dettagliati relativi all'ISBN e tutto quanto necessario per potersi procurare o ordinare il libro di testo. La parte italiana sulla sinistra, la parte inglese sulla destra. Oltre a questo, gli strumenti per apprendere sono sicuramente il libro, sono sicuramente le lezioni, ma soprattutto sono sicuramente gli strumenti di programmazione. Noi nelle prossime lezioni, a partire da domani, cominceremo ad avvicinarci a questi strumenti. Vi avevo già indicato di scaricare il PyCharm, avete già tutte le istruzioni per poterlo fare, che sarà l'ambiente di sviluppo principale che useremo durante il corso per scrivere i nostri programmi. Ma poi ci sono altri due ambienti di sviluppo che poi avremo tempo di approfondirli, ma ci tengo a citare già fin dalla prima lezione, questo sito che si chiama Python Tutor, che è molto carino perché ci permette per piccoli programmi scritti in Python di visualizzare che cosa succede, di vedere le variabili, cosa c'è dentro, con queste freccioline, con questi disegnini, che ci permettono di capire meglio come stanno elaborando i nostri dati, vedere i dati e quindi capire eventualmente anche gli errori che facciamo o i ragionamenti che facciamo nei nostri programmi. Un altro sito che useremo spesso per fare soprattutto degli esempi al volo è un sito cosiddetto repl.it, che di fatto è un ambiente di programmazione totalmente online. E quindi voi andate su questo sito, scrivete il vostro programma, fate run e lì parte, e lo esegue direttamente online. Ovviamente dovete essere connessi, non avete tutte le funzionalità evolute che ha il PyCharm per scrivere il progetto, però per fare esercizi al volo, esempi, esempietti, è molto estremamente comodo e lo useremo spesso, proprio perché non c'è bisogno di installare nulla, quindi anche se siete in vacanza a casa della nonna, basta che abbiate un computer o uno smartphone, vi collegate col sito e potete fare gli esercizi di Python tranquillamente. Per quanto riguarda il programma, diciamo così, principale, che è il PyCharm Educational, di questo sul sito del corso avete già visto, che ci sono le istruzioni sia per Windows che per Mac OS, per l'installazione, vi ho anche linkato il video fatto dal professor Montrucchio, dove fa vedere proprio l'installazione negli ambienti Windows, Mac e anche su Linux, Ubuntu. Quindi chi avesse ancora avuto dei problemi sull'installazione, diciamo così, può contattarci, ma io spero che, diciamo, le istruzioni molto dettagliate siano sufficienti. Quindi questa è la, diciamo così, l'abbiamo già visto, come compare l'interfaccia di PyCharm, ve l'ho fatta vedere rapidamente, ma adesso la rivedremo poi durante il corso, diciamo così, più approfonditamente. E adesso ve l'ho mostrata per confrontarla con quello che è l'interfaccia web di repl.it, questo è il sito repl.it, che vi ho accennato prima, in cui semplicemente qui è scritto un programma e sulla destra qua c'è direttamente l'output mostrato dal programma stesso, quindi si comporta praticamente come il nostro ambiente di sviluppo, però gira dentro un browser e quindi mi diceva molto comodo. Questo per quanto riguarda gli strumenti e le dotazioni con cui lavoreremo. Dal punto di vista più pratico, tutti noi sappiamo qual è l'orario della lezione, l'abbiamo già visto e studiato, e quindi lunedì e martedì sono dedicati alle lezioni, lunedì alle 16, al termine di una pesante giornata, che inizia direttamente di botto con l'analisi chimica, e invece martedì iniziamo, diciamo come diciamo, al mattino alle 10, con tre ore di informatica, ovviamente tre ore all'interno delle quali cercheremo anche di prenderci una pausa ovviamente. Il giovedì invece è dedicato ai laboratori. Laboratori, avete visto che ci sono tre blocchi orari, dei quali in realtà ne dovete seguire uno solo la settimana. Quindi ogni settimana voi avrete tutti queste tre ore di lezione o esercitazione, quindi si chiama lezione ma poi in molti casi faremo proprio anche esercizi insieme, e poi una di queste tre ore di esercitazione ogni giovedì. Ogni giovedì tranne il giovedì di questa settimana. Quindi questo giovedì primo ottobre non ci sarà il laboratorio, il laboratorio inizierà dall'otto ottobre. I laboratori sono la parte più importante del corso, perché è quella in cui effettivamente impariamo a scrivere programmi e risolvere problemi. Siamo di fronte a un testo, voi avete un testo in mano, il computer nell'altra mano e in mezzo ci siete voi che dovete far sì che il computer risolva l'esercizio. Ma il problema non è tanto programmare il computer, è più che altro impostare il ragionamento, la soluzione del problema che vi viene posto e poi ovviamente tradurlo in algoritmo e l'algoritmo codificarlo in un programma. Questo è il lavoro che farete voi. Quindi sarà molto diverso rispetto all'esercizio fatto nelle ore di lezioni, in cui magari sono io che risolvo un esercizio, se riusciamo a farlo anche un pochino interattivamente, diciamo ma il grosso sarà un esercizio svolto da me o dagli altri docenti che si alterneranno. Diverso è invece essere di fronte, per cui quando vedi un altro esercizio ti sembra sempre tutto facile. Vedi i passaggi, sì sì certo, certo, va bene, l'ho capito, però l'ho capito e è diverso da lo so fare. Quindi lì sarà proprio il momento in cui vi mettete a provare a fare voi questi esercizi. Fare gli esercizi di laboratorio è la cosa più importante, e anche gli altri esercizi proposti, è la cosa più importante di tutto il corso. È quello che vi fa passare l'esame, vi fa capire come funziona la programmazione, vi fa capire come funziona l'impostazione degli algoritmi. Quindi ovviamente noi siamo disponibili nelle ore di laboratorio a fornirvi supporto mentre voi provate a risolvere gli esercizi, ma se anche per qualche motivo decidete di non frequentare nelle ore di laboratorio o in presenza online, adesso vediamo i dettagli, o per che non potete, o per mille motivi, però sappiatelo che dovete a un certo punto mettervi di fronte a un foglio con un testo e un foglio bianco in cui cominciare a ragionare e risolvere l'esercizio. Questo non lo imparate guardando gli altri, non lo imparate sedendovi a fianco di uno più bravo di voi, non lo imparate guardando 12.000 videolezioni, non lo imparate facendo 6.000 fotocopie di esercizi fatti da altri, lo imparate solo quando vi mettete, diciamo così, umilmente di fronte a un foglio di carta bianco e cominciate a disegnare l'algoritmo, oppure di fronte a un computer e cominciate a scrivere del codice. Questo è il passaggio che dovete fare, per alcuni sarà più facile, per altri sarà più ostico, però è il vero apprendimento durante il corso, apprendere a strutturare ragionamenti di problem solving e a codificarli in programmi, questo non lo può fare nessuno per voi, noi possiamo darvi tutto l'aiuto, ma poi ciascuno di voi individualmente lo deve fare, quindi prendetela questa come, non il laboratorio è una cosa in più che si va a giocare fuori, ma è la cosa importante, tutto il resto è in funzione del lavoro che farete nel laboratorio, e poi ovviamente vi accorgerete che gli ultimi laboratori di fatto sono identici come difficoltà a quello che troverete all'esame. Ok, veniamo al pratico, ho finito il predicosto generale, la parte pratica è che siete divisi in tre squadre, una di queste squadre che è stata chiamata convenzionalmente la squadra numero 1, è in presenza, nell'aula 3, l'abbiamo visto prima, eccola qua, è in aula 3, quella che si chiama squadra 1. Le altre due squadre, 2 e 3, sono invece in virtual classroom, quindi online. Allora, come ci dividiamo in queste tre squadre? Lo vediamo tra un secondo. Ovviamente chi lavorerà online, lavorerà da casa sul proprio computer, il proprio computer che a questo punto servirà sia per collegarsi ovviamente con noi, e sia anche per scrivere il vostro codice, essenzialmente. Mentre invece la squadra numero 1 verrà in aula, non in laboratorio, non andiamo in laboratorio del Politecnico, perché purtroppo questi non sono ancora aperti, non sono ancora accessibili agli studenti, e quindi andremo nell'aula 3, che è un'aula molto grande, e vi chiediamo di portare ciascuno il proprio PC portatile. E quindi in aula, ben distanziati, ognuno, ciascuno, lavorerà sul proprio portatile, fate in modo di avere almeno un'ora e mezza di batteria quando arrivate, perché non credo che ci siano presidi di carica per tutti. E quindi svolgerete l'esercizio lì in aula, e la differenza sarà che per chi è in aula, diciamo, eventuali richiesti di assistenza, diciamo, cercando di avvicinarci, ma non troppo, e cercare di rispondere individualmente, invece chi segue online, invece verrà seguito attraverso chiaramente gli strumenti virtuali, quindi la videoconferenza, e soprattutto il canone Slack, perché poi molte volte è più comodo avere a fare copia in collo di codice su Slack, oppure in alcuni casi potremmo anche fare una chiamata diretta in videoconferenza per condividere lo schermo, ad esempio vedere cosa state facendo sul vostro computer. Però questo lo faremo, lo vedremo durante, ne parleremo chiaramente in vista del primo, del primo laboratorio. Per il primo laboratorio è necessario ovviamente installare tutta la parte di software richiesta, ma prima lo fate ovviamente meglio è. Dicevo, questa è l'offerta che facciamo di laboratorio, ovviamente il testo lo pubblichiamo sul sito, quindi chi non vuole o non può, facciamo così, frequentare queste ore, ovviamente lo potrà fare in autonomia, senza il nostro aiuto che abbiamo in quel momento, ma il testo sarà comunque pubblicato, pubblico sul sito. Ci sarà anche la soluzione che pubblicherò poi più tardi, però non mi piace parlare delle soluzioni degli esercizi fatte da noi perché non vi fanno imparare, come dicevamo prima, non vi fanno imparare nulla. Se fosse per me non pubblicherai mai le soluzioni, poi voi invece lo chiedete sempre, allora alla fine mi convincete e le facciamo in modo di pubblicarle. Però sappiate che, diciamo così, didatticamente non servono a niente. Ok, quindi la suddivisione squadre com'è? La suddivisione squadre è dinamica, perché ogni settimana ci sarà un gruppo di voi che avrà prenotato per la presenza in aula 3. Io non so quali sono e chi sarà, e non so, da una settimana all'altra sicuramente potranno cambiare. Quindi la definizione delle squadre è una definizione dinamica. La squadra 1 per definizione è fatta di chi viene in aula. La squadra 2 e la squadra 3, invece ho provato a dividere, a tagliare, diciamo così, l'ordine alfabetico, circa il punto di metà, in cui ci sono metà studenti prima e metà studenti dopo, è intorno tra CASS e CAST. Quindi alla squadra 2 alle ore 10 si devono collegare tutti coloro il cui cognome è minore o uguale a CASS e ovviamente non sono prenotati per quel giorno, in presenza, ma anche perché alle ore 10 in presenza avranno un'altra lezione. Ok, quindi è sottinteso, penso sia chiaro che chi è prenotato in presenza automaticamente si considera squadra 1 e tutti gli altri chiaramente vengono divisi. Quindi la squadra 2 sarà tutti coloro, dall'A alla CAS, tranne quelli che sono in presenza in quella settimana. La settimana dopo chiaramente alcuni potranno andare in presenza e altri finiranno online. Così per la squadra 3, che si collegherà alle 11.30, è fatta di coloro che hanno il cognome che inizia per CAST e finisce per Z, quindi fino alla fine dell'alfabeto. Io ho messo dentro anche l'A e la Z, perché oltre a quella fetta di lettere, di cognome che iniziano con la C, abbiamo tutti quelli di progettazione industriale che in realtà sono spalmati sull'intero range alfabetico. Ok, quindi questa sottivisione con la quale iniziamo il corso può darsi che se ci fossero nuovi iscritti o spostamenti di studenti dovremmo aggiornarla, ma per il momento, diciamo così, con l'informazione che ho oggi, è la divisione più bilanciata tra le due squadre. Ok, poi ovviamente, praticamente come si svolge il laboratorio, ne parleremo la settimana prossima nelle lezioni, in modo da poterci anche poi preparare. Per quanto riguarda le comunicazioni, già lo sappiamo, tutte le comunicazioni vorrei che passassero possibilmente dalla piattaforma Slack, perché le mail si perdono, voi siete 300 studenti, quindi è improponibile che io riesco, in un certo senso, a tenere traccia di tutte le mail che dovessi ricevere per tutti i tipi di problemi. Abbiamo il canale Slack, a quale partecipano anche gli altri due collaboratori del corso, che sono Juan Pablo e Luisa, e quindi tutti noi possiamo rispondere, diciamo aiutarci tra di noi, anche a rispondere alle vostre domande. Quindi ormai vi siete già iscritti praticamente tutti, lo ribadisco, l'iscrizione è obbligatoria, io spero di non dover mai rispondere alla vostra mail inerente al corso, perché vuol dire che abbiamo tutti capito che la comunicazione inerente al corso avviene lì. Ci sono questi quattro canali, il canale generale è un canale in cui voi non potete scrivere, possiamo scrivere solamente noi, e lo usiamo per fare gli annunci ufficiali, mentre invece voi potete scrivere liberamente nel canale discussione, per fare domande, per parlare tra di voi, per rispondervi, eccetera, su tematiche inerenti al corso. Noi il canale discussione lo teniamo d'occhio, e quindi qualunque cosa voi scriviate, se sono domande, e se non siete riusciti a rispondere tra di voi, noi teniamo a dare una risposta sempre, quindi quello è il canale ufficiale di comunicazione di supporto. C'è anche il canale random, invece è uno spazio libero, in cui potete parlare tra di voi, magari noi intanto diamo un'occhiata, ma non siamo tenuti a rispondere, potete anche parlare di argomenti collaterali, o non strettamente didattici, su Slack è anche possibile, se volete, crearvi dei gruppi privati, in cui poi parlate solo tra di voi, o tutti, o una parte di voi, senza che noi possiamo leggere, quindi se voi create un gruppo privato, state tranquilli che noi docenti non possiamo leggere lì dentro, e quindi possono anche avvenire delle conversazioni, tra virgolette, protette. C'è invece, infine, il canale laboratorio, che è il canale che sarà attivo solamente durante le ore di laboratorio, solamente durante le ore di laboratorio, tendenzialmente quello online, quindi dalle 10 alle 13, e lì è il canale nel quale dovrete fare le domande relative all'esercizio che state svolgendo in quel momento, allora è quello un canale che verrà gestito in tempo reale, mentre normalmente in una chat uno risponde quando ha tempo di leggere e rispondere, nel laboratorio sapete che ci sarà una persona, più di uno se riusciamo a avere i borsisti, per darci una mano, che vi risponderà in tempo reale alle vostre domande, fatte in chat, e quindi dobbiamo anche gestire più persone. Se poi qualcuno fa una domanda, questa domanda si articola, diventa complicata, si può passare per messaggi privati, quindi chat privati tra l'assistente e lo studente, e se non bastasse ancora, possiamo contattarci anche in video, per condividere lo schermo, dipende chiaramente dalla tipologia delle domande. Quindi l'equivalente del alzar la manina in laboratorio per dire scusi ho una domanda, è scrivere la domanda nel canale del laboratorio, e poi questa verrà presa in carico, e verrà in qualche modo, speriamo, soddisfatta. Però essenzialmente impariamo a usare questo strumento, e sarà lo strumento principale di comunicazione, sia vostro nei miei confronti, sia mio nei vostri confronti. Diciamo solo due parole sull'esame, in cui dirò delle cose che sono, in un certo senso, ancora generiche, anche se ovviamente è un tema molto importante, perché noi la logistica degli esami che si svolgeranno a gennaio e febbraio, al momento non è ancora definita. Il Politecnico non ha ancora detto come si svolgeranno gli esami, esattamente con quali strumenti, se si svolgeranno nella stessa modalità con cui si sono svolti quelli di giugno o di settembre, oppure ci saranno modalità diverse, magari un pochino più facili. Noi non sappiamo se riusciremo a fare parte degli esami in presenza, se saremmo autorizzati a farli oppure no. Questo dipende da miliardi di fattori che sono assolutamente al di fuori del nostro controllo. Quindi, cosa possiamo dire oggi? È che, di sicuro, per chi vuole o deve fare l'esame online, ci sarà la possibilità di farlo. Questo è garantito per tutto l'anno accademico, il Politecnico permette di fare lezioni, esame, tutto, diciamo così, in modalità a distanza. Forse potrebbe esserci qualche spiraglio per sostenere l'esame anche in aula o in laboratori, ma a noi piacerebbe molto, perché è un modo corretto di fare gli esami, non sorvegliati da una videocamera o da un software di intelligenza più o meno artificiale che controlla se state copiando, che sono cose abbastanza disagevoli. Quindi, noi stiamo spingendo per questo, ma non abbiamo idea di quale sarà la situazione interna del Politecnico e la situazione nazionale sulla pandemia tra gennaio, quindi tra tre mesi, quattro mesi. In ogni caso, se riuscissimo a avere una parte dell'esame in presenza, questo sarà sicuramente equivalente alla stessa difficoltà, con la stessa tipologia di esercizi di quello online. Quindi, ci sono due esami esattamente equivalenti. Non posso fare altro che dirci ci aggiorniamo verso dicembre, quando le cose saranno un pochino più chiare, ci sarà un pochino più di visibilità, per capire se abbiamo questa possibilità di avere l'esame doppio, o in cui potete scegliere la presenza o la distanza, oppure invece saremo costretti a fare l'esame totalmente a distanza. L'esame in che cosa consiste? Essenzialmente consiste in alcune brevi domande sulla parte teorica, quindi quei dieci ore di teoria del corso sono condensate in due o tre domandine o esercizietti, molto, diciamo così standardizzati, in un certo senso, non dei classici su questa parte teorica, e poi degli esercizi di programmazione. Se lavoreremo online, tendenzialmente saranno due o tre esercizietti piccoli, se invece lavoreremo in presenza, si tenderà probabilmente più a fare un esercizio di programmazione più lungo, proprio per la modalità di consegna essenzialmente. Però l'idea è che comunque dobbiate scrivere dei programmini, delle pare di semplici programmi in Python, e avrete la possibilità di usare PyCharm o altre piattaforme simili per poter scrivere il vostro codice. Quindi noi non chiediamo, attenzione, che consegnate un programma perfetto funzionante e se funziona avete passato l'esame. No. Voi ci consegnate un elaborato che è un testo di un programma che avete scritto. Questo elaborato l'avete potuto sviluppare e provare usando gli strumenti, e quindi magari, anzi, vi siete sicuramente aiutati e l'avete fatto funzionare. Vi siete aiutati nel farlo funzionare totalmente oppure in parte. Quello che noi leggiamo il codice e diamo il voto sul ragionamento che avete fatto e sul codice che avete scritto. Poi è chiaro che se funziona è meglio, ci sono più probabilità che sia corretto, però magari un programma che funziona ma è scritto male, con un ragionamento sbagliato o non accettabile, viene valutato male. Magari invece c'è un programma che non funziona per un errore cretino di cui non vi siete accorti, ma tutto il resto del ragionamento fila bene, e allora magari prendete un buon voto. Quindi ciò che valutiamo noi è il merito del ragionamento e dell'algoritmo e dell'implementazione che fate. non è semplicemente un test che funziona o non funziona. Però durante lo svolgimento del testo invece voi avrete la possibilità di testarlo, quindi evitate di consegnarci delle cose che paresemente non funzionano perché avete avuto la possibilità di correggerlo. In ogni caso, questo è un discorso ancora un po' fumoso, fatto oggi, perché non siamo ancora entrati nel vivo della programmazione, non è un problema perché nelle ultime due settimane del corso, quindi sicuramente da Natale in avanti, quindi dopo Natale c'è ancora una settimana e mezzo circa, faremo proprio esercizi d'esame, tra cui una esercizione di laboratorio fatta esattamente con la stessa modalità dell'esame, in modo da fare delle prove, delle simulazioni d'esame, io le tendo a chiamarle così, delle prove che ci permettono di familiarizzarsi con le modalità di svolgimento dell'esame, quindi il test di domande è fatto nello stesso modo, le modalità di consegna è fatte nello stesso modo e così via. Questo vuol dire che in sintesi per passare bene l'esame serve fondamentalmente imparare a ragionare, imparare ad approcciarsi ai problemi, imparare a sviluppare questi algoritmi che poi sono procedure risolutive, quindi questo è un corso di logica razionalità, non è un corso di tecnologia, poi per carità, bisogna imparare un linguaggio di programmazione, bisogna familiarizzarsi col pc, eccetera, ma il corso di informatica è un corso di ragionamento, il corso di ragionamento logico-razionale non è un corso di ragionamento di tipo analitico, di tipo deduttivo, o di tipo per somiglianza essenzialmente, quindi dovete fare attenzione che se voi avete un metodo di studio, un metodo di apprendimento che è un metodo molto per classificazioni, per cui c'è il tipo A, il tipo B, il tipo C, il tipo D del problema e la soluzione la imparo per ciascun tipo separatamente, ecco, questo metodo non si applica, non funziona con l'informatica, con l'informatica uno deve andare ad aprire la scatola, guardare cosa c'è dentro e cercare di capire il dettaglio del ragionamento. Queste cose, come dico, le riprenderemo. Sappiate che appunto chi trova difficoltà in questo corso di solito sta trovando difficoltà nel riuscire a decomporre il proprio modo di ragionare. Cioè magari le cose le sai fare, ma fatti chi è riuscito a vedere quali sono i passaggi logici per poterle fare. Questa è la difficoltà principale. E poi, cosa serve per passare l'esame? Fare gli esercizi. Fare davvero, non solo ah sì sì, l'ho visto, no, farlo. Anche quelli che sembrano facili, perché magari, ah sì, lo leggo, è facile, e poi quando ci provi ti accorgi che non è facile, o ti accorgi che magari c'erano dei casi particolari a cui non avevi pensato. Farlo da soli, sul PC davvero, non su carta. Quindi non lo devi fare con un amico che fa l'esercizio e tu lo guardi. Non devi farlo su un pezzo di carta, guardi il pezzo di carta e dici guarda che bel programma che ho fatto. Sì, sul pezzo di carta c'è la parte di brutto, l'algoritmo, lo pseudocodice, eccetera, ma poi alla fine devi passare al computer e il suo computer deve funzionare. Funzionare non una volta, sempre, con dati diversi, con diverse tipologie di input, e quindi, insomma, arrivare a un risultato, diciamo così, di qualità. Ma essenzialmente, non fatevi ingannare da cose che sembrano facili. Ecco, le prime settimane del corso sembreranno molto facili. Poi, a un certo punto, ci sarà un gradino in cui cominciamo a mettere insieme tutto e le cose cominciano a combinarsi in tutti i modi possibili, immaginabili, e allora la complessità sale moltissimo. Se uno ha fatto la ginnastica preparatoria sulle parti iniziali, allora, quando le cose diventano più difficili, allora non ha problemi di base sulle cose di base. Se uno ha le cose di base le ha un pochino lasciate indietro perché sembravano facili, quando si arriva alla parte più difficile rimane bloccato, perché ha contemporaneamente i problemi della parte più difficile e anche con i problemi di base. E una cosa che sarebbe carino è voi stessi vi potete inventare nuovi problemi, vi potete inventare nuovi problemi sulle cose di tutti i giorni, o sull'esercizio che vi fanno fare i colleghi di chimica, oppure sui nostri hobby, oppure delle varianti degli esercizi che vi proponiamo. Magari al laboratorio vi proponiamo l'esercizio 1, 2, 3, ne riproponiamo sempre alcuni per casa, ma magari una volta che l'avete svolto provate a chiedervi e se invece e se invece volessi un risultato diverso e se invece i dati fossero strutturati in modo diverso come cambierebbe? Perché a questo punto si innesta su un ragionamento che avete già fatto, su una soluzione che avete già svolto e provate a modificarlo, provate a estenderla e risolverlo. Questi ingredienti che avete visto qui non c'è scritto studiare a memoria il libro, non c'è scritto sapere a memoria ciò che ha detto il professore nelle video lezioni, ma c'è scritto aver essersi tirati sulle maniche e provato a lavorare e a fare esercizi, questo è tutto ciò che serve per passare bene l'esame. Ovviamente per fare l'esercizio bene un pochino uno la teoria la deve imparare, il linguaggio la deve conoscere, eccetera, eccetera, ma le difficoltà non sono nel linguaggio, le difficoltà sono nel approcciarsi alla risoluzione del problema. E questo, diciamo così, chiude questa parte di presentazione generale, nelle slide c'è ancora una slide di contatti con nomi, cognomi, indizi di mail di docenti, ma ci siamo già detti che le mail non le usiamo e quindi se avete bisogno di contattarci ci contattate su Slack e così come i link utili sono essenzialmente il link al sito del corso da cui poi ricavate e trovate tutto il resto. Quindi questa è la parte, diciamo così, un pochino più burocratica, tecnica, logistica del corso, da domani cominciamo a entrare nel vivo a parlare un pochino di problem solving e di algoritmi. Arrivederci, buona serata. Grazie a tutti.